la situazione meteorologica per questo fine settimana vedrà l'arrivo di aria calda una massa d'aria calda associata a un promontorio di alta pressione che poi durerà anche per buona parte della prossima settimana sabato prevediamocelo in genere sereno o poco nuvoloso su pianura e costa da poco nuvoloso a temporaneamente variabili nel pomeriggio in montagna qui per qualche possibile isolato rovescio temporale farà più caldo con temperature massime intorno i 33 gradi in pianura 30 anche sulla costa con venti di brezza la giornata di domenica sarà simile a quella di sabato cielo in prevedenza poco nuvoloso o al più velato quindi per nubi alte e sottili ancora possibile qualche isolato temporale pomeridiano in montagna e le temperature aumenteranno ulteriormente minime anche a 25 gradi sulla costa intorno ai 22 sulla pianura massime saliranno a 35 gradi in pianura intorno ai 32 lungo la costa l'inizio della prossima settimana vedrà ancora cielo da poco nuvoloso su pianura e costa a temporaneamente variabili nel pomeriggio in montagna con qualche isolato rovescio temporale non escluso e con temperature in ulteriore aumento su valori molto sopra la media probabilmente le massime il nordio martedì raggiungeranno anche 36 forse anche 37 gradi in pianura caldo in serata anche sulla costa con minime specialmente verso trieste intorno ai 28 gradi dall'osservatorio meteo dell'arpa arturo pucillo vi saluta